la situazione è la satelmica, abbiamo un sacco lupo al di là dell'imbaria iriativa abbiamo come sempre l'unità basso l'acqua a 24 gradi in varia a 22, la scala è questa luna vedete l'unità, questa è sempre alta e questa è la situazione di adesso questa è la situazione di livello e questa è la situazione di livello e questa è la situazione di livello con la situazione di livello è nella situazione di livello che fa parte da Balkan è la situazione di livello e questa è la situazione di livello colorazione Il frame della webcam conosceremo 15 secondi per il tempo di ritardo. Significa che quello che noi vediamo ai 5.31 in realtà è avvenuto 15 secondi prima, invece di 40 e 45. Tutte le levate di questo periodo giustiziale si possono confrontare con questo punto qui, l'estremo sinistro in degli scogli. Si vedrà che il sole ha fatto un approccio al punto più estremo a sinistro e adesso si sta ritirando. Il grandimento è sempre lo stesso, quindi il confronto si può fare abbastanza direttamente, ma nel caso non fosse lo stesso grandimento possiamo utilizzare questa lunghezza come unità di misura e il discorso è immobiliato. Cioè si divide dalla lunghezza di questo scoglio la distanza tra la verticale sull'orizzonte e la posizione generata del sole. Grazie. 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 12 secondi fa 32,47. Questo è il momento in cui il disco solare si è affacciato nel suo tempo superiore, sopra l'arizzonte del mare, l'abriatica. Ora questo numero, 5,32,48, dobbiamo dare in pasto al programma di esternarium della versione del 2020, che uso sempre, perché ho verificato con la meridiana di Sant'Amico di Angelo di essere accurato al serenologico. Lo potrei fare anche subito, ma voglio ammirare la relazione del sole, la forma del sole a causa del filtro atmosferico viene fuori regolare e si riesce a vedere il miraggio, che a Pescara è piuttosto forte, in realtà lo è nel mese di maggio. Nel mese di luglio, ormai la temperatura dell'acqua è salita, siamo vicino di molto a quella dell'aria, per cui un effetto di grande differenza tra aria e acqua è possibile che non ci sia, sono due grandi differenze in questo punto. In realtà, questa stanza tra il punto dove vediamo il discosurale è l'osservatore di diversi kilomiti, 12 kilomiti, e a 11 kilomiti l'acqua può essere anche più fresca di quello che è all'aria, per via della profondità e della circolazione. Comunque, la levata è il solstizio dell'ordine dei 3 minuti, quindi ancora 15 secondi e la parte inferiore del disco si distacca definitivamente. E' evidente che la risoluzione spaziale di questa webcam non è quella né dell'occhio né di una camicchiata. E quindi dietro i pixel, che ancora sembrano mostrare il contatto, poi forse adesso si è staccato, a 36-19, complessivamente sarebbero 3 minuti e 17, il tramone, la durata della levata, oppure 3 minuti e 39-37, quando ora si vede proprio l'assenza di contatto del disco e le misoglie. In ogni modo, non è visibile il miraggio, il sole avvava, solo cosa del genere. E inoltre c'è anche una distorsione, perché il sole appare più lungo, più alto e lungo. Però è una distorsione ottica, quindi sta a dire lo strumento, non nella webcam, non ha un effetto atmosferico. che c'è, ma è esattamente il contrario. Il sole è schiacciato verticalmente. Ok, 5. Mettiamo dentro Pescara qui. Posizione Pescara. La prova ora è lo stabilimento che abbiamo lì davanti. L'orario, le 5. 32. 48. La rifrazione è 36 gradi e 20. Per quest'anno, le vado a Pescara. Grazie per l'attenzione. 7 luglio. Buongiorno.